Formazione e turismo è stato sottoscritto all'interno del Rettorato dell'Università degli Studi Aldomoro di Bari l'accordo quadro con validità triennale tra l'Ateneo del Capoluogo Pugliese e l'Agenzia regionale del Turismo Puglia Promozione finalizzato alla formazione di figure professionali coerenti allo sviluppo di un sistema turistico in linea con le esigenze del territorio. L'obiettivo è quello di affrontare nel migliore dei modi e attraverso quindi percorsi formativi che guardino realmente al futuro la nuova sfida che la filiera turistica pugliese deve affrontare e cioè continuare a far crescere la qualità dell'accoglienza e dei servizi. Soddisfazione per l'accordo triennale firmato oggi con l'Università perché è un mercato che si consolida e ha bisogno nella nuova programmazione di figure professionali nuove oltre a quelle a cui siamo abituati a pensare nei percorsi di serie inferiore abbiamo sempre più bisogno di manager del turismo questo per tenere in piedi le nostre organizzazioni che sono sempre più complesse ma anche per pianificare lo sviluppo della Puglia. Formazione, turismo e aggiungere ricerca perché sono questi i cavalli di battaglia del futuro far diventare una parola che sembra quasi applicativa sul territorio invece un luogo di riflessione, di approfondimento e anche di conoscenza di nuove possibilità sia professionali sia di sviluppo territoriale. Questo è il motivo centrale della mia gioia di aver sottoscritto l'accordo perché prevede un percorso o percorsi che possono sollecitare una riflessione più approfondita sul turismo per il bene del territorio e dei territori. Formazione e turismo un accordo importante è questo che pone le basi per far crescere sempre di più quello che è l'accoglienza sul nostro territorio. Abbiamo sottoscritto con l'Università di Bari oggi un importale del protocollo di intesa per la formazione per progetti di ricerca sul turismo. Abbiamo degli accordi anche con la LUM e con l'Unisalento lo faremo col Politecnico di Bari. Insomma Puglia Promozione si mette al centro del sistema della ricerca pugliese perché vuole in qualche maniera aiutare e essere aiutata nella ricerca e nella formazione sul turismo.